La Polizia Locale di Reggio Calabria ha avviato una serie di attività che ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi. In particolare sul fronte della Polizia Stradale è stato posto in essere un controllo mirato presso la frazione Catona che ha consentito di sequestrare cinque veicoli per mancata copertura assicurativa, elevati ulteriori verbali per mancata revisione ed occupazione abusiva del suolo pubblico. Ulteriore attività ha consentito di individuare e denunciare per ricettazione un cittadino siciliano che esponeva per la vendita presso il mercato di località Botteghelle 54 capi di vestiario risultati rubati. Sullo fronte ambientale è stata sequestrata una cisterna ed un rimorchio contenente reflui da frantoio parzialmente sversati nei pressi del depuratore. In corso ulteriori accertamenti. Un soggetto è stato soppreso a sversare un contingente quantità di rifiuti in area pubblica in località Pentimele. Un altro soggetto è stato invece denunciato per apertura di un esercizio commerciale la cui licenza era stata sospesa per interditiva antimafia. In totale sono state denunciate quattro persone per vari reati. Sono stati altresì denunciati ulteriori tre soggetti per costruzioni abusive su aree demaniali.